Speriamo che non me ne ha piore, ragazzo La cabina a me è piaciuta un casino Ma l'ha solo collegata alla cabina, ragazzo Eh, questa è equilibrata, comunque Sì, se lo dice il lion ci pidià Perché non ci viene mai n'uscita la scritta Io... Io vado ad aggirarli da dietro, ehm Arrivo! Sta arrivando! No! Oh! Il nome della storia Meno uno Vai, vai Adesso ve lo dico subito se l'hanno sistemato o no Tieni qua, tu No, ragazzi, sparate Tieni qua, tu A tutti, vieni qua A tutti! Non se ne sta venendo più Non se ne sta venendo più Non vorrei prenderti tutto Tutti Sì Chi è? Oh! Eh Dov'è? Ti ho perso scarsissimi questi Dai fuori Non dico che lo vedo come prima, ma comunque Ma vedi che non c'è differenza Ma comunque Michael, era L'avevo giocato oggi con Michael, no? Eh, io ho detto ma tu lo vedi più veloce Lui ha fatto un paio di partite e ho detto no No, lo vedevo sempre uguale, mi ha detto lui Ma infatti io adesso lo sto vedendo uguale Eh, la velocità è tornata di nuovo come prima Ma ieri sera era più veloce Adesso vedi che anche il personale che corre è più lento No, no, ieri c'è la seconda cosa che non andava Adesso non è già stato meglio, eh Dai dai, noi facciamo venire il Michele ma dopo Ha perso, ha perso il coraggio Ha perso il coraggio Michele E qua No, dai È morto, è morto Due politiche Oggi Aaaaa Sono a terra Ah No, ma c'è No, ma ce la voleva sera La mia c'è Sì è vero Va bene questi sono anche scarsi comunque se ne man Urla No, beppe adesso, io adesso sto usando Drake Io sto correndo Lo vedo più lento rispettare Cuni qua non ti saltano freddo che cosa che stiamo spaccando ovunque ehi ti ho aiutato io ieri era una giornata sfigata no ma mi sa che te l'ha provanzata guarda che è difficile quella prova di me no comunque secondo me l'hanno se ne sono accorti che l'hanno forse un po' diminuita eh ma guarda che hanno rilasciato la pace prima vedi però subito l'hanno fatti e non hanno perso tempo a volte vedo vario ma vabbè ma è là che ci stavano anche prima no ma a parte che ieri il server era pienissimo rispetto a cioè ieri non funzionava nemmeno i non ti faceva aprire nemmeno i forzieri ho anche il seguero vieni qua tu, no no aiuto no grande è solo l'inizio delle tue, che sofferenze è là dietro hanno fatto una bacce di assestamento dai è questa? ooooh mamma mia nooo ero coperto vedi 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 mi fa incazzare sta cosa mamma mia mamma mia quel ciocobo dai scappato 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 io mi fanno come le put***e no aiuto ah che cazzo hai ma che cazzo hai ma che cazzo hai mi cazzo hai ah quello sta ma che cazzo ti nascondi ma che cazzo ti nascondi no non ha detto niente la mia mina strano che non ha detto erano equilibrati non c'è comunque questo scasso con la caria gridando come un loco domando oh aah aah kk o cazzo lo spezzatino venga lo spezzatino aah se facciamo prendere coraggio a Michele e dopo gli mando il messaggio dico Michele è tutto a posto aah grande Michele è tutto a posto Michele attenzione evita avanti oh raga dopo che vuoi abbandonare un po' perché vorrei che la fa la roba mh arriva c'ho in mente ancora quella cazzo di prova io voglio capire se era un problema di ieri del messo ma c'era così però devo capire se cosa faccio eh lo so però devo tentare poi dopo tanto ritorno faccio solo un paio di pro ma guarda sto cazzo di tabellone che me l'ha sempre defilato ma è bello che non ti fai ma ma